Ciao ragazzi, io sono Nell'IRF e bentornati su No Man's Sky. Oggi vediamo una mini guida come ricavare o trovare la ferrite pura. Come prima cosa dovete trovare la polvere di ferrite che sarà l'elemento base per poter fare la ferrite pura. Quindi cercatela nelle rocce e vedete che qua come seconda voce abbiamo, sotto questa roccia qui, polvere di ferrite. Quindi sempre con la pistola la andate a raccogliere. Dovete raccogliere un bel po' che poi sarà raffinata nel raffinatore che abbiamo appena fatto. Poi addirittura dovrebbe dare già la ferrite pura, l'oggetto, però non la posso prendere perché richiede il laser avanzato. E ancora non ce l'abbiamo. Quindi ora ci tocca proprio lavorarla, prendere la polvere e poi lavorarla. Poi magari in seguito riusciremo a farla direttamente. Quindi per poter lavorare la polvere di ferrite abbiamo bisogno di fare il raffinatore portatile. Per farlo avremo bisogno di una placca metallica e ossigeno. Quindi vado a posizionare il mio raffinatore e a questo punto faccio il tasto E e mi fa vedere. Qua ci vado a inserire la polvere di ferrite che ho appena raccolto, come ho fatto vedere. Quindi la andiamo a mettere e qua dovrebbe darmi poi la ferrite pura, come vedete. Ovviamente bisogna poi fare il carburante e il carburante è dato dal carbonio. Ricordo che il carbonio lo ottenete sempre dalle piante o dagli alberi. Quindi mettiamolo e a questo punto possiamo fare avvia. A questo punto abbiamo la nostra ferrite pura. Lo facciamo fare un po'. Ok. E così col tasto poi sinistro lo andate a raccogliere. E vi chiederà se la volete nell'esoduta o nell'astronave. Vabbè, io la metterò nell'esoduta. Grazie ragazzi di aver visto questo video. Se l'avete trovato interessante, se volete che continui questa serie sulle video guide su No Man's Sky, mettete un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E condividetelo con i vostri amici. Ciao e alla prossima. Grazie a tutti.